Il mese di agosto dovrà essere ricordato come un mese triste per Città di Castello. È infatti il giorno in cui sono comparse le gru all'interno dell'area della ex FAT. Così inizia una lettera del dottor Lucio Girelli, che abita proprio nella zona dell'area ex FAT, dove a breve inizieranno i lavori. Questo significa, dice Girelli nella nota, l'inizio ufficiale dell'ultimo scempio che verrà perpetrato ai danni di questa nostra sfortunata città. La costruzione di due stecche di case popolari, vengono chiamate con un altro nome ma in realtà questo saranno, dice ancora nella nota il dottor Girelli, nel bel mezzo dell'area storico-archeologica più significativa della città, deturpandola irreparabilmente. Nella nostra storia rimarrà questo sfregio indelebile insieme ai nomi dei responsabili, primo di tutti quello dell'ex sindaco Cecchini, dice ancora Girelli, che l'ha ostinatamente voluto, nonostante avrebbe potuto utilizzare l'opportunità offerta dal contratto di quartiere per un vero recupero di parte della città mediante la ristrutturazione degli edifici abitativi esistenti. Poi resterà anche il suo nome, signor sindaco Bacchetta, dice ancora Girelli, per non aver saputo né voluto seguire il percorso alternativo ancora possibile della ricerca degli edifici da recuperare. Ma purtroppo siamo responsabili anche tutti noi cittadini, conclude Girelli, e soprattutto quelli che avevano titolo per poter essere più ascoltati, per aver lasciato che tutto avvenisse senza cercare di impedirlo con tutte le proprie forze. Tornerà il buio alla mattonata, un cittadino sempre più deluso dalla grave miopia politica.